nuovo sondaggio del 16 settembre 2019 elaborato per svg il tg per il tg di la 7 di enrico mentana la rega la lega risale dello 0,6 per cento in una sola settimana e arriva al 34 per cento mentre sono in calo partito democratico che al 21,5 per cento con uno meno 0,6 per cento in sette giorni il movimento 5 stelle perde uno 0,5 per cento e ritorna al 20,5 per cento per quanto riguarda i partiti di centrodestra berlusconi di forza italia passa dal 5,2 per cento di lunedì scorso al 5,9 di oggi più 0,7 per cento il lieve calo anche fratelli d'italia che dal 7 che al 7 per cento meno 0,2 per cento in una settimana se si andasse a votare oggi quindi un'ipotetica coalizione tra i tre partiti di centrodestra raccoglierebbe quasi il 47 per cento dei voti quindi abbiamo balzo in avanti della lega risale forza italia e in caduta movimento 5 stelle e pd forza italia comunque addirittura a meno del 6 per cento oscilla tra un 5,4 un 5,2 e un 5,9 il partito di berlusconi è arrivato al livello più basso della sua storia grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video arrivederci